L'abusivismo purtroppo è una piaga che investe tutti i tali, insieme a Convertigianato e CNA abbiamo promosso questo flash mobbing per sensibilizzare sia il prefetto e sia per quanto riguarda i cittadini perché ormai investe un quarto della popolazione e maggiormente il sud, è una piaga endemica che va risolta. Purtroppo se ognuno di noi con un po' di buonsenso anziché di regarsi tre volte da parrucchieri ci va due volte forse debelliamo almeno il 50% di questa piaga ma anche a favore dei cittadini che investono anche sulla sanità e sulla loro sicurezza è qualcosa che ormai è arrivato in sopportazione, bisogna fare qualcosa. Oggi siamo qui per ribadire con forza di stare a fianco delle categorie maggiormente colpite, sono i parrucchieri e gli esteristi e questo lo ribadiamo davanti al prefetto. È un fenomeno che va debellato assolutamente quindi credo che questo sia un punto di partenza. Oggi l'obiettivo è quello di sensibilizzare sia il prefetto, quindi le forze dell'ordine, ma soprattutto la cittadinanza perché la normativa igienico-sanitaria che è importante diventa fondamentale per i cittadini anche in questi casi quindi scegliere il legale è fondamentale per salvaguardare la propria sicurezza.